di ospitare qui nel mio programma un'altra regina della televisione, se montate, qualcuno la principessa dovrà fare, no? No dai, veramente, un'altra regina della televisione, Barbara D'Urso. Eccomi, entro nelle vostre case come da 15 anni col cuore, grazie davvero, grazie col cuore, grazie davvero col cuore, io mi amo, grazie, grazie Loretta. Grazie a te Barbara di essere qui con noi. Hai fatto benissimo ad ospitarmi in questa puntata, perché sai che solo io posso insegnarti a fare la televisione. Oh, bene o male che qualcuno me lo insegna. Ecco, davvero col cuore, lo sapete, il mio cuore è vostro, dei miei figli è subito dopo vostro, col cuore, davvero. Siamo sotto testata giornalistica e ci seguono da Marte, da Nettuno, da Urano, io vi amo, eh, le casalinghe che stirano, io sono con voi, lo sapete? No, ma a quest'ora spero che non stiano stirando, poverine. Scusami. No, scusami. Che? Cioè, mi dicono che dopo due minuti già siamo al 78% di share, no, vabbè, loro, io vi amo, lo sapete? Mi sembra un po' tanto. Io vi amo, il mio cuore è vostro, lo sapete, io faccio lotto per voi, lo sapete, tutti i giorni ho lotto per voi, ma cara Loretta, dobbiamo subito innovare questo programma. Sì. Perché tu sai che, insomma, per fare un programma ci vogliono delle esclusive, tu hai delle esclusive? No, credo di no, 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 noi non ci abbiamo esclusive. Ce l'hai la busta shock, lo sai che cos'è una busta shock? No, no, vabbè, non sai cos'è la busta shock, io ti amo. Non lo so. Facciamo entrare subito una busta shock, vediamo che... Grazie davvero col cuore. Questa è la busta shock, la busta shock gold, tra l'altro. E che vuol dire gold? C'è una notizia davvero straordinaria, davvero, 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 perché sai che c'è la busta shock gold e poi c'era anche la busta quella brutta, 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 brutta. Non l'hai portata, spero. No, quella non l'ho portata. Ok. Allora, gold. E qui praticamente c'è un'esclusiva, parleremo infatti del principe Harry, che sai che ha scritto un libro, no? E lui nel libro ha fatto una rivelazione importantissima, perché Harry è stato a letto con Kate, che sapeva... Ma non è... Ma, ma... Barbara, ti prego. È la storia di suo fratello William. No, vabbè, io vi amo. Poi, regia, mi dai il logo esclusivo, per favore. Per favore, non glielo date. Mi dai il logo esclusivo? No, non glielo date. No, perché tu devi essere sicura di quello che dici, non puoi dire una cosa così qui da noi, eh. In esclusiva, per voi e solo per voi, abbiamo ritrovato gli orologi di Francesco Totti. Ah, bello questo, che meraviglia. E a breve ci sarà un'intervista esclusiva per voi, eh. Con Francesco Totti? No, con gli orologi, saranno qua, intervisteremo gli orologi e gli chiederemo. Ma adesso devo passare a delle notizie davvero orrende, vi giuro. Ma perché mai, scusa, ma proprio... Perché lo sapete che Roletta questa settimana è stata su tutti i giornali, mi date i giornali per favore? Ecco, Loretta Shock, ci amiamo, vado a vivere con Luca e Paolo. Ma non è vero, ma... ma poveretti, ma come vai? Una torbida relazione a tre, io ti amo, Loretta, hai fatto benissimo. No, 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 guarda. No, no, no. E poi c'è un'altra notizia che è su tutti i giornali, mi date per favore l'altra notizia? Ecco, boom, Loretta Goggi sull'isola dei famosi, no, vabbè, io adoro, eh. Ma che isola... ma no, 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 io l'unico modo per andare sull'isola dei famosi mi diceva sempre mio marito se vuoi accettare portati la muta da subo perché in bikini. No, io ti manderei a Playa de Snuda, Loretta. Eh, questo de snuda. Ma adesso facciamo entrare la nostra amatissima macchina della verità dell'Alabama. No, no. Tre domande per Loretta Goggi. No, no, no. Facciamo entrare subito la macchina? Senta, non ce l'abbiamo noi. Non c'è? No, no. Purtroppo, purtroppo siamo sprovvisti. Scusate, mi hanno detto che venivo in Rai, ma non pensavo a Telecapodistria. Cioè, non avete la macchina? Tu mi stai dicendo che non abbiamo la macchina? Non ce l'abbiamo. Io sono scioccata, davvero. Poi quella dell'Alabama deve essere una... E poi ti devo dire un'altra cosa, Loretta, qui in Rai c'è troppa spending review, eh. Ti devo dire, non avete messo i miei 15.000 watt, quindi io sono molto, molto, dispiaciuta per questo. No, ecco, mi dispiace, noi abbiamo fatto il possibile, abbiamo acceso l'accendibile. No? No? Col cuore? E allora anche a voi che seguite la Rai, il mio cuore è vostro, dei miei figli e subito dopo vostro. Col cuore! Grazie! Grazie! Grazie, davvero! Grazie, grazie, grazie molti a Barbara D'Urso! Grazie, Vincenzo, due Lucia! Grazie!